Oggi giornata concimazione, mettiamo un po' di terriccio alle piante da frutta che abbiamo su questo terrazzamento. Ci piacciono i metodi abbastanza sbrigativi, abbastanza veloci. Questo è tutto il terriccio che abbiamo messo oggi. Arriva la cavalleria col terriccio. Eccolo là, terriccio buono per fare frutta straordinaria. Adesso vediamo quanto ne arriva e quanto dovremo rastrellarlo. Vediamo se ce n'è abbastanza. Eccolo qua che arriva. Un carico carico pieno di... Allora, vieni qua. Eccoci qua, sento già il profumo. Profumino, bello, grasso. Queste sono tutte le foglie e gli avanzi verdi del giardino che sono andati in decomposizione e sono un ottimo concime per le nostre piante da frutta. Adesso ci manca solo da rastrellarlo e metterlo in ordine. Ecco qua, roba buona, piena di lombrichi, belli grossi e saporiti. Ma che roba? E' roba buona. Belli, belli rossi, belli in carne. Ma che roba? Questi qua ci fanno l'orto da favola. Ecco qua, bello rastrellato, tirato al bordo, pronto per una bella piovuta. Così. Un po' di nutrimento, per le piante. Per quest'anno ce l'abbiamo. La pacea matura è importantissima, tiene l'umidità, non fa crescere l'erba, dà sostanza organica alle piante e speriamo di avere un buon raccolto. Grazie a tutti, ciao!